Tanto spavento domenica mattina per una mamma e la sua bimba rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 a Ponterio di Monterado, nel comune di Trecastelli. La donna di 50 anni era al volante di una Matiz quando è uscita di strada lungo la Pergolese coinvolgendo altre due auto. A suo fianco c'era la figlia di 10 anni che per fortuna è rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ora al vaglio dei carabinieri, la donna per evitare l'impatto con una vettura che si stava per immettere sulla carreggiata avrebbe sterzato finendo contro un terzo veicolo in sosta per poi andarsi a schiantare contro un palo e un albero. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi di legge, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il personale del 118 che ha trasportato in ospedale la 50enne ferita ma non in modo grave.